La Costituzione italiana lo dice chiaramente, tutti hanno uguali diritti ma spesso questi diritti non sono rispettati, ci sono i diversamente abili, non autosufficienti ad esempio che ogni giorno conducono la loro battaglia per vivere come tutti ma devono fare i conti con difficoltà che non sono solo le barriere architettoniche. Il tema è stato affrontato nell'ultima puntata del 2017 di Moby Dick, in studio chi vive la disabilità e chi si batte perché le leggi vengano rispettate, quelle leggi che esistono ma spesso non sono finanziate o sono ostacolate dalla burocrazia. A parlare dei loro disagi quotidiani e dell'indifferenza delle istituzioni, le mamme Sonia Gomez ed Enrichetta Cinelli e la presidente regionale dell'Associazione Persone Down Giovanna Grignoli. Maggior rispetto perché vogliono essere ascoltate e qualche volta vogliono anche delle risposte però, maggior sostegno quindi queste risorse che non si trovano, che non ci sono. Io penso che le risorse ci sono, ci siano ma che stanno al solito distribuite male e poi delle maggiori opportunità. Molto attenta alla problematica dei diversamente abili l'assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso Alessandra Salvatore. Stiamo lavorando su vari fronti, ecco con l'ascolto di cui parlava Giovanna, effettivamente quello che ci chiedono poi quotidianamente. Approfitto per dire che domani avremo in sala consigliare l'Associazione Leonde che presenteranno il loro calendario, un'associazione di famiglie di bambini e bambine affetti da autismo, da patologie simili. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche l'assessore regionale alle politiche sociali Vittorino Facciolla che ha annunciato più risorse per disabilità e non autosufficienza nel bilancio 2018 per erogare più servizi e finanziare la vita indipendente, senza peli sulla lingua Emilio Izzo dell'Associazione Uguali, il quale pur riconoscendo i passi in avanti fatti nella fase della concertazione ha lanciato pesanti accuse alla segretaria del PD Micaela Fanelli e al governatore Paolo Frattura. Un ambito in modo particolare, quello di Boiano Riccia, ha avuto un'esponenziale richiesta, cioè sembra che tutti i disabili si siano concentrati in quell'area. In quell'ambito insiste il segretario di un partito molto importante e quindi a me viene da pensare che in quell'area evidentemente questo segretario avrà detto, guardate, fate le domande che poi si vedrà come si può in qualche modo aggiustare. Dico al governatore, non me ne voglia, ma questa è una vecchia battaglia, solo per stabilizzare i cantonieri basterebbero i soldi della Bioco. Sono intervenuti in diretta telefonica anche Domenico Costantino, Concettina Aquilante, Tina De Michele, Mario Vaccaro e Franca Cianchetta che vivono direttamente o indirettamente i problemi legati alla disabilità, toccante la lettera di Nicolino Buscio, diversamente abile di Bonefro. Il disabile, l'invalido, l'handicappato, il non autosufficiente, chiamateci come meglio credete, di fatto resta sempre da solo, senza protezione. Le istituzioni che fanno in tutto questo, se ne fregano. La politica del rigore sta avendo effetti devastanti per le politiche sociali e in particolare per le persone con gravi disabilità. Tutto è iniziato con una dichiarazione di un ministro della Repubblica quando affermò che l'Italia non poteva permettersi due milioni di disabili. La regione molise non è da meno. È notizia di ieri, questa ancora più grave, la mancata erogazione del sussidio 2015-2016 per la non autosufficienza. Vergogna. Come fa il governatore del Molise a dare priorità alla metropolitana leggera e non alla viabilità nei nostri paesi? Come fa il governatore ad avere un atteggiamento poco attento, ingeneroso, superficiale nei confronti della disabilità? A dire il vero non solo con i disabili. Il Molise dovrebbe essere una piccola Svizzera. Invece, come dice mio figlio Michele, la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Nicolino.